In questo Veritalia siamo oggi in grado di mostrarvi un documento eccezionale. Due ragazzi russi, mentre si aggiravano a passeggio in una landa desolata, era una vera e propria steppa, si sono imbattuti in un elemento curioso, in un elemento particolare, un animale che era rimasto e incastrato nella sua tana. I due ragazzi, con sprezzo del pericolo, si sono avvicinati all'animale e hanno cercato di salvarlo. Bene, quando abbiamo avuto la possibilità di verificare il filmato abbiamo scoperto che... È il Citello! Il Citello della mano! Ecco dove è andato a finire. È in Russia. Era scappato, stanco di tutte le attenzioni e delle castronerie sentite a Teramo, anche quando si cominciò a parlare addirittura di creare a spese del comune, recinti, panchine, per osservazione del Citello. Il cane della prateria era scomparso, come ricorderete, se ne era andato, era introvabile. Addirittura aveva abbandonato il suo sito internet, già perché era stato aperto anche una pagina Facebook in onore del Citello. Se ne era andato, aveva deciso di lasciare questa città carica di attenzioni, attenzioni gravida di personaggi più o meno inquietanti che lo riempivano di verdure di ogni genere, di mangimi di ogni tipo, di scatolette, anche, ahimè, abbiamo visto di tutto e se ne era andato, era scomparso. Ecco, è andato in Russia, dove sta cercando di smaltire, con qualche difficoltà, come si nota dalle immagini, tutto il grasso accumulato nel periodo Teramano. Gravido di virtù, il Citello si aggira per la steppa, in attesa che qualche persona di buon cuore lo salvi dalle tanne nel quale va ad incastrarsi. Bene, è salvo. Con buona pace di quanti si sono preoccupati in questi mesi per le sorti del Citello, arrivando addirittura a realizzare dei manifestini che sono stati affissi un po' ovunque, mancava solo che chiamassimo chi l'ha visto, il Citello è salvo, vive in Russia ed è felice. Oddio, felice non lo so, lo siamo noi felici però. Via d'Italia.